Maestro Morassi, il conferimento della Laurea Noris Causa rappresenta anche il riscontro ufficiale dell'importanza che il territorio friulano riconosce al suo operato. Sì, io sono di origine canica, ho sempre amato la mia terra, che è il Friuli e la canica in particolare. Io ho abitato a Viversiani a Camporosso, quindi nella zona del Tervisiano, dove nel 1950 ho scoperto la bete di risonanza nella foresta di Tervisio e questo è una cosa che ha fatto scalpore, ha fatto grande successo per la forestale e per la mia attività. Ecco, ricevere un riconoscimento di questo genere è veramente importante perché mi viene dato dalla mia terra e soprattutto dalla mia gente. Questo mi dà lo sprone per continuare la ricerca sul legno di risonanza che è stato proprio l'inizio della mia attività nella zona del Tervisiano, dove ho la casa e vivo più di frequente perché una volta ero sempre lontano, un po' all'estero, un po' a Cremona dove ho svolto l'attività nel liutaio, ma non ho mai abbandonato e conto di tornare più spesso e volentieri nella zona che prima di tutto il clima è molto fresco, molto bello e mi trovo molto bene, e di continuare la ricerca sulle qualità del legno di risonanza che abbonda appunto nella foresta edemaniale di Tervisio.